Edder, Mech, Pallister. Il fatto appunto che Chiara abbia nascosto i corpi vicinissimo alla... dentro casa praticamente, nella sua casa, questo rafforza che è un messaggio nei confronti di qualcuno, qualcuno che sicuramente è vero o visto tramite la radioestesia che è la stessa. Ha subito veramente una violenza carnale e da quella violenza carnale che è rimasta incinta, è stata violentata ed è rimasta incinta. Questa è la nuda realtà che per una violenza carnale perpretata dai suoi danni da un bastardo ci hanno rimesso la vita due anime innocenti. Perché poi, se andiamo a guardare, questa è la verità. Vi ripeto, la stessa avrebbe potuto nascondere i corpi in qualsiasi posto, solo che se li è messi proprio dentro casa. Perché? Perché voleva, voleva che questi corpi, questi corpi di queste donne nati venissero scoperti. Ora, signori, vorrei lanciarvi un appello a voi tutti. Ho deciso di acquistare un iPhone 13 Plus, considerato che questi servizi che offro per la collettività sono servizi gratuiti, in cui il Sensitialocchi non percepisce neanche un euro. Considerato che ho deciso di acquistare un iPhone 13 Pro Max per migliorare la qualità dei video che quotidianamente faccio su tantissimi casi di gialli risolti e persone scomparse, ho deciso di chiedere un vostro contributo economico, se volete potete lasciare una libera offerta su questa PostPay, questo è il numero della PostPay e questo è il mio codice fiscale. Ecco, se voi volete lasciare un contributo appena il Sensitialocchi sarà riuscito ad acquistare il prodotto farò un video di ringraziamento in cui farò vedere anche il prodotto acquistato, almeno avremmo anche una visione più chiara per tutti i video che da qui in avanti il Sensitialocchi andrà a fare per ogni singolo caso. Di nuovo amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitialocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Evermettolica!